Benvenuti a questa nuova Pausa Caffè, faccio passare la macchina e vi dico che oggi parliamo di... Ma prima... SIGLA! Aldo Ricci presenta Pausa Caffè Pausa Caffè Girano i dischi di Aldo Ricci Allora, oggi vi parlo di un prodotto che mi è appena arrivato Siamo in Quentin Torino e vi parlo di questi tre affari qua Che cosa sono? Sono filtro ND e gli anelli Quick Release che trovate sul sito di Manfrotto Ovviamente non sono di Manfrotto, sono della Xume Xume, Xuma, Xumo E che cosa permettono di fare? Di non andare ad avvitare ogni volta il filtro sull'ottica Come funziona? Praticamente quello che dovrete fare è questo Prendere l'anello adattatore, questo E andarlo a montare sul bordo della camera Quindi quello che dovete fare è fare questo Lo montate sul filtro Quindi fate così Questo è un filtro ND 64 Quest'altro invece, che è quello più grande Che poi è quello che permette di fare questo Va montato sull'ottica Quindi adesso vado ad avvitare Mentre voi mi state guardando L'anello magnetico sull'ottica Perfetto Quindi anello magnetico montato sull'ottica Che è il primo strato Il secondo strato è questo Che permette al filtro di diventare Quick Release magnetico Il terzo è il filtro Quello che dovete fare è avere un anello magnetico per ogni ottica E l'adattatore magnetico su ogni filtro In base poi alle dimensioni dell'ottica Quello che farete poi è semplicemente prendere e agganciare Fatto Ovviamente adesso sono sottoesposto Però era per farvi capire come funziona il Quick Release Li trovate sul sito di Manfrotto Li sto utilizzando da qualche giorno Sono una figata mostruosa Semplicemente arrivate e fate Sentite il suono Ci vediamo alla prossima Pausa Caffè Per tutte le informazioni vi lascio il link qua sotto Fate i bravi E ciao da Torino Pausa Caffè con Aldo Ricci